Benvenuti o bentornati sul mio canale e in un video un po' diverso dal solito, molto da youtuber anche questo come quello della settimana scorsa. Oggi facciamo una TBR, to be read, ossia quali libri devo leggere? L'idea è di fare questo video un po' più a chiacchiereccio di libri che non ho ancora letto e vedere se a fine anno li ho letti tutti. Di solito leggo tutto ciò che ho sul comodino, poi compro, non sono troppo compulsiva, ma ultimamente tra il fatto di andare al mercatino dell'usato e prendere un sacco di libri, al compleanno ne ho ricevuti tantissimi, poi sono andata alla fiera del libro, poi è passato Natale, quindi ci sono un sacco di libri, voi vedete solo questi, ma ho una varie pile qui davanti perché li ho divisi in base ai video che ho fatto così non mi ripeto troppo. Allora, 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 ho fatto la prima pila con gli ultimi che rimangono del book haul Allora, scusate, sono già stanca, abbiamo appena iniziato, sono già stanca. Allora, ho diviso la prima pila e dei libri usati, quelli che avevo comprato da ex novo, che vi avevo fatto vedere nel book haul, vi lascio il video su nelle info, giù in descrizione, e sono la bastarda di Istanbul, se ti abbraccio non aver paura e si sta facendo sempre più tardi di tabucchi. Ho lasciato indietro questi tre per motivazioni completamente futili. Allora, questa è la copertina rigida, che è una cosa che odio perché mi punzecchiano gli angoli, e non lo so, non mi sentivo di voler andare a Istanbul ancora. Poi, questo è gigantesco, nel senso è grande il formato e odio questi piltrinelli così non economici, però lo leggerò perché adoro Antonio Tabucchi, quindi prima o poi tocca anche a lui. E l'altro motivo futile è che non mi andava di deprimermi, e questo sembra un libro super iperdeprimente perché parla di un padre con un bambino con una malattia incurabile che fanno un giro in tutto il Sud America per far vivere al bambino gli ultimi mesi di vita al massimo, diciamo. Poi, gli ultimi due libri del book haul di compleanno che mi sono rimasti sono anche quelli che in realtà vorrei leggere di più. Le cure della casa della Bertola e la ricamatrice di Winchester. Vi lascio sempre come al solito il book haul di compleanno su, giù, eccetera. Stefania Bertola, ne ho fatto anche un video di tutto su, ormai non è più tutto perché sono usciti altri libri, però come avete visto in passato ho già letto Via delle Magnole 11 e quindi non volevo leggere due libri della Bertola di seguito. Ergo, le cure della casa, devo aspettare un pochino perché non voglio mischiare i libri. Ho imparato a mie spese quando avevo intorno ai 16 anni che leggere tutte le cose di un autore insieme mi porta a confondermi. Stessa cosa vale anche per la ricamatrice di Winchester, visto che quando mi è arrivato non era da tanto che mi ero rimessa a studiare i libri della Therese Chevalier per il video sulla paleontologia che vi lascio sempre info giù in descrizione. Quindi mi sono detta voglio che passi un po' di tempo tra un suo libro e l'altro. Ultima pila dei libri che vengono da un video passato sono quelli di più libri più liberi. Mi sono rimasti Il diamante grande quanto il Ritz di Fitzgerald e non l'ho ancora letto perché a dicembre ho letto un sacco di librini piccolini. Non so neanche di che parla, come vi dicevo già nel video, l'ho comprato semplicemente perché era Fitzgerald e dovevo prendere tre libri di questa casa editrice per avere lo sconto. Perché ho lasciato indietro questo? Perché avevo letto da poco primo maggio, come avete visto anche negli LL lunedì, quindi non mi va di leggere sempre le stesse cose dei vari autori, dello stesso autore di seguito. Sì, lo sappiamo! Vabbè, basta, non mi ripeto più. Questo che è molto interessante, lo inserirò nel Leggi il Mondo Challenge per l'Olanda, e ve l'avevo già detto nel video che ho fatto a casa, però perché non l'ho ancora letto per la copertina. Andiamo bene! Sì, lo so. Sì, lo so, lo so. È brutta. Questo l'avevo iniziato, racconti sementi mentali e satirici, non li ho continuati perché sempre la mole e non mi piace la copertina, quindi faccio fatica a sforzarmi. Poi lo leggerò, lo adorerò, lo so già. Ipazia. Ipazia l'ho lasciato indietro perché voglio farci una letteratura scientifica, mi ci voglio dedicare bene, lo voglio studiare come si deve, non lo voglio soltanto leggere. E al momento ho in lettura il libro su Mozart, che non finirà mai in realtà, mi manderà al manicomio perché è troppo difficile, però finché non ho finito quello non posso leggere un altro libro che mi richiede sforzo intellettuale e studio. Ok, i libri già citati nei video dovrebbero essere finiti e ora vi parlo brevemente di un libro di un mio amico che è Un Laterale Bisogno di Imperfezione di Giovanni Sicurello. Giovanni l'ho conosciuto lavorando per lo Student Doc Fest, era uno dei miei colleghi, mi ha detto che faceva lo scrittore e quando ha portato i libri mentre stavamo lavorando ho detto io questo me lo prendo posso, 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 e lui ha detto sì sì sì. e quindi questo lo vedrete negli all'allerone di come anche, scusa Luca, Gladio, di Luca Minardi, che leggerò lo giuro, il problema è che è in digitale, questo è il mio problema, se una cosa è in digitale io me la scordo, il libro lo vedo, dico uh ti devo leggere e lo leggo. E poi va bello, sapete, io leggo praticamente in cartaceo il digitale, lo odio, però sono i miei soliti problemi da pazza. Del libro in realtà non voglio sapere nulla, mi basta sapere che l'ha scritto giù, mi sembra che abbia un tono molto allegro e divertente, già solo dalle prime parole che ho letto, ma non riesco a pronunciarlo perché c'è una parola in dialetto, mi sembra siciliano credo, scrivi nei commenti se leggi, se vedi, se... ha anche un secondo volume, come leggo qua, e vediamo un po'. Ne parleremo negli all'allonidi sicuramente, perché prima o poi lo inizierò, devo solo capire qual è l'ordine, e soprattutto devo finire i libri che sto leggendo, perché sono arrivata a quota 5, faccio un po' schifo, però sono io che sono in un periodo di delirio mentale. Veniamo alla pila di Natale, non ho ricevuto tanti libri a Natale, e più che altro adesso abbiamo iniziato con due mie zie, sia da una parte paterna, sia da una parte materna, una cosa che adoro, ossia loro leggono i libri, e poi li mandano a me e me li regalano, perché? Perché non hanno spazio? Questa cosa è fantastica. Ormai lo spazio non lo ho neanche più, io però sto comprando casa, quindi la devo tappezzare di libri, avrò un sacco di spazio da riempire. Allora, le zie sono zia Alexia, che mi ha mandato tre libri, e zia Carla, che come al solito ormai la conoscete, ha comprato anche parte di questa pila, e mi ha dato zia Carla, l'ultimo di Barbascura, saggio erotico sulla fine del mondo. Questo libro, erano mesi che lei l'aveva finito, diceva, ora te lo do, ora te lo lascio da nonna, ora riusciamo a darcelo alla fine all'epifania, ci siamo riuscite, non vedo l'ora di leggerlo, sapete che io adoro Barbascura, so che molti di voi lo adorano, perché siete arrivati anche da quel vecchio video, che lui aveva ricondiviso, della storia della scienza, ovviamente porterà a una letteratura scientifica, Dicevo che quello è l'unico format che è coperto sempre, anche se prima di iniziare a fare video sulla letteratura scientifica, io non lo sapevo che leggevo letteratura scientifica, sono strana io. Comunque, i libri di zia Alexia, questo mi è arrivato, proprio me l'ha comprato da Amazon, e me l'ha inviato, Le Ceneri di Angela, si è messa a parlare con mamma, di nascosto, ma ce l'ha, ma non ce l'ha, ma le interessa, questo è quello che inserirò nella parte dell'Irlanda, come vi dicevo nel passato video, so che parla di un'infanzia difficile in Irlanda, sembra bello intenso, vi leggo il retro. Ripensando alla mia infanzia, mi chiedo come sono riuscito a sopravvivere, naturalmente è stata un'infanzia infelice, se no non ci sarebbe gusto, ma un'infanzia infelice irlandese è peggio di un'infanzia infelice qualunque, e un'infanzia infelice irlandese cattolica è peggio ancora. Quindi, promette bene quando mi sentirò sempre forte, abbastanza per leggere così tristi, leggerò anche quello. Sia Alexia mi ha mandato anche Matematica a mio terrore, che lei aveva già letto, sembra molto carino, e come al solito, dovrei che finisce nella letteratura scientifica, e poi mi ha adorato Zero Calcare, e quando mi ha detto, oh non lo comprare che lo sto leggendo, poi te lo mando, sì, sì, perché, mi dispiace, ma costano uno sbario, gli Zero Calcare, non lo metto sulla pila perché penso che cadrebbe. Allora, vedendola tutta insieme non è un granché, un po' di ansietta viene, non ho neanche contato quanti sono, ditemelo voi nei commenti se volete contarli, penso che in un anno dovrei smaltirla tutta la pila, il problema è che ho anche dei libri in ebook, una quintalata, non li ho comprati, mi sono capitati, c'era il calendario dell'avvento dell'Oscar Vault, di cui però non mi interessa praticamente niente, c'era il calendario dell'avvento del saggiatore, quindi più di 20 titoli del saggiatore li ho scaricati a prescindere, tra cui però nel saggiatore c'è una biografia di Chopin, spero che non sia come il libro su Mozart, perché se non mi uccido, però sarebbe anche carino fare degli operettiamo su Chopin, mo l'ho detta sta cosa, mi sono condannata, nel senso che l'ultima volta ho detto sta cosa, poi non l'ho potuta fare la rubrica, però sorvoliamo. Detto ciò, quanti libri avete voi sul comodino? La cosa vi stressa come stressa me? Oppure fate come vi pare e continuate a comprarli? Ne possiamo parlare nei commenti, vi chiedo di lasciare un mi piace, anche magari iscrivervi al canale, attivare la campanella, non sono tutti così i video che faccio di solito, questi sono dei mini esperimenti un po' più rapidi, perché come vi ho detto il tempo scarseggia, quindi abbiate un po' di pazienza, arriveranno anche i videoni. Se vi interessa vi consiglio di andare a vedere tutto su, gli un po' di, la letteratura scientifica e le operazioni, che sono quelli molto più elaborati. Ora non mi rimane che augurarvi, buona lettura! Ciao! 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 Grazie a tutti.